Filtem, CGL, Wiltec, Wil e Femka Cisle con le rispettive RSU di stabilimento e con la società Roma Style si sono riunite presso la Confindustria Chieti-Pescara per giungere ad un accordo sulla gestione di 321 esuberi dichiarati dall'azienda Brioni il 13 aprile 2021 presso il Mise. Dopo una lunga ed ampia discussione si è trovata una soluzione per la gestione dei suddetti esuberi. Un percorso è legato al prepensionamento e uno è legato all'uscita volontaria per i non prossimi alla pensione. In dettaglio, a tutti i lavoratori che aderiranno fino al 31 dicembre 2021 e che matureranno il diritto al pensionamento durante il quinquennio 2021-2025 sarà garantita un'integrazione del trattamento economico Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria o Cassa Integrazione Straordinaria e Naspi a partire dal mese di firma dell'accordo e sarà riconosciuto un importo aggiuntivo a titolo di incentivo dal primo mese dalla firma e fino alla maturazione del diritto alla pensione o al massimo fino al 31 dicembre 2025. Anche con riguardo ai lavoratori non prossimi alla pensione, la società riconoscerà delle somme aggiuntive a titolo di incentivo all'esodo per l'intero periodo di copertura degli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione. L'accordo prevede inoltre l'introduzione di un incentivo aggiuntivo differenziato per due fasce di età e con riguardo ai nuclei familiari con un figlio minore o con particolari situazioni di disagio sociale a ulteriore tutela di determinate categorie di lavoratori. Inoltre l'accordo prevede anche percorsi individuali e collettivi di ricollocamento outplacement gestiti da una società leader del settore e con una fortissima presenza sul territorio abruzzese e in particolare nella provincia di Pescara che forniranno ai lavoratori la più completa consulenza sia su aspetti pensionistici che di ricollocamento. Le organizzazioni sindacali e le RSU hanno specificato che qualora dovessero intervenire aggiornamenti normativi in materia di ammortizzatori sociali durante l'applicazione del presente accordo si faranno promotori per l'applicazione degli stessi. Le organizzazioni sindacali rappresentate da Antonio Perseo, Deborah Del Fiacco e Leonardo D'Addazio esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e confidano che tale accordo unitamente al piano industriale di rilancio che l'azienda deve mettere in campo porterà al contenimento degli esuberi annunciati. Una buona notizia, c'è questo accordo, sicuramente c'è una riduzione dell'impatto sociale a livello di esuberi e comunque abbiamo degli accompagnamenti morbidi con dei prepensionamenti e degli incentivi all'esito quindi sicuramente come dicevo è una notizia importante, noi come regione faremo la nostra parte a breve convocherò un tavolo per coinvolgere le parti sociali e anche logicamente il comune di Penne perché è il comune in cui insiste questa azienda, in cui ci sono tantissimi lavoratori logicamente come regione metteremo in campo tutte quelle misure di nostra competenza, di politica attiva e di formazione eventualmente per riqualificare i tanti dipendenti che logicamente sono disponibili a ricollocarsi in altre aziende.